Banca Alpi Marittime Banca Alpi Marittime persegue lo scopo di favorire i soci e i clienti nelle operazioni e nei servizi di banca, promuovendo lo sviluppo della coesione sociale con il fine di una crescita responsabile e sostenibile del territorio. È una banca con una doppia anima, svolge fondamentali attività di intermediario creditizio, con la fondamentale attività di raccolta, risparmio e finanziamento ed è un'impresa a responsabilità sociale. Ispiriamo la nostra attività all'attenzione e alla promozione della persona e dell'economia locale. Siamo una banca costituita da persone che lavorano per le persone. Il nostro obiettivo è essere vicini sempre per garantire il benessere dei soci e dei clienti e lo sviluppo dei territori in cui operano. Siamo focalizzati nel soddisfare i bisogni finanziari di famiglie e imprese, ricercando il miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi offerti. I nostri indicatori di solidità patrimoniale CET1 e Total Capital Ratio sono nettamente superiori ai limiti in vigore e testimoniano la solidità della banca. Il nostro obiettivo è fabbricare fiducia tramite la creazione di un valore economico, sociale e culturale a beneficio dei clienti e dei soci. Siamo strettamente connessi con la comunità locale. La conoscenza profonda e reciproca dei membri della comunità costituiscono l'attenta individuazione delle persone meritevoli di credito, le quali useranno responsabilmente il denaro ricevuto in prestito. Promuoviamo il benessere della comunità locale tramite attività di servizio all'economia civile. Attraverso la mutua Vicini Sempre abbiamo intercettato la necessità di famiglie e giovani colpite da una costante riduzione di servizi a livello sanitario e sociale. Supportiamo le start-up nella loro fase di lancio con finanziamenti a tasso agevolato e tramite il nostro acceleratore mettiamo loro a disposizione uno spazio di lavoro condiviso in cui possono collaborare e formarsi grazie ai nostri corsi. Il bando Potenzialità e Talento è un progetto destinato a giovani neolaureati o laureandi volto a sviluppare 8 tirocini in aziende e soci della banca desiderose di incontrare giovani talenti capaci di interpretare progetti innovativi. Tramite il bando Scuole abbiamo destinato una quota di risorse a progetti di istruzione ed educazione che mirano a supportare percorsi di inclusione, lingue straniere, supporto per la scolarizzazione e didattica innovativa. Sostenere lo sport sul territorio è l'attività che pratichiamo con più entusiasmo perché è il miglior investimento per il futuro della nostra comunità. Ma non è finita, ci sono tantissimi altri progetti. Seguici sui nostri canali multimediali per scoprire le novità della banca attraverso i suoi prodotti, le sue aziende e la sua rete. Questa è Banca Alpimarittime e fare con la forza dei soci.